Le principali difficoltà che noi stiamo vivendo a tutti gli effetti sul territorio riguardano in prima battuta il finanziamento di un certo numero di progetti significativi, in quanto molte volte noi abbiamo l'attenzione su più progetti che hanno dei margini di risanamento molto interessanti, però manca un finanziamento per affrontarli tutti in qualche maniera. La seconda difficoltà che va di pari passo è quella burocratica nel far capire all'amministrazione qual è il principio di questo tipo di operazioni che naturalmente sono un po' differenti rispetto a una gara d'appalto tradizionale e quindi molte volte anche qui delle operazioni che sono sicuramente significative vanno a morire o comunque vengono accantonate in favore di operazioni tradizionali e quindi esulano un po' da quella che è la nostra mission. Comunque noi ci crediamo e vogliamo risolvere.